La purezza fa l'uomo simile agli angeli, quanto è adunque me bella questa virtù che conserva l'ordine e la dignità nativa dell'uomo. Essa è che fa riconoscere altamente riveribile la sua eccellenza, di cui parlò già in sensi tanto elevati il salmista rivolto a Dio. Signore, voi avete fatto l'uomo di poco inferiore agli angeli. Essa è che gli mantiene quella sovranità sublime in cui fu da Dio costituito su tutte le visibili creature. Proprio di essa è quell'augusto splendore che, quasi glorioso diadema, distingue il suo principato, di cui prosegue a dire lo stesso salmista. Di gloria e d'onore l'avete coronato e l'avete costituito sopra tutte le opere delle vostre mani e tutte le cose avete assoggettato ai di lui piedi. La purezza fa che l'uomo sia tempio di Dio. Da essa proviene che si avvisi la nobile immagine della divinità impressa nell'uomo, sicché si può dire, segnato è sopra di noi il lume del vostro volto, Signore. Per opera della purezza nel cuore dell'uomo si edifica un tempio vivo dello Spirito Santo, anzi il corpo stesso dell'uomo diviene strumento della gloria di Dio e più ancora suo abitacolo e suo sgabbello, secondo che volle indicare San Paolo quanto disse, le vostre membra sono tempio dello Spirito Santo che è in voi, glorificate e portate Dio nel corpo vostro mortale. Questa virtù è infine che rende l'uomo grazioso al cospetto di Dio, amico, per la somiglianza che vi riscontrano, di quegli spiriti immateriali e celesti, caro agli uomini, onorato e temuto persino dai suoi nemici.